Non si hanno più sue notizie dal pomeriggio di martedì, sono ore di apprezzione a Chiauci per un 21enne di origine eritree che si è allontanato da una struttura d'accoglienza del posto, al momento sembra essere sparito nel nulla per questo motivo. È stato attivato il piano provinciale di ricerche interforze nel piccolo centro, sono arrivati i rigidi del fuoco del comando provinciale di Sernia e i carabinieri delle stazioni di Pescolanciano e di Cantalupo nel Sannio nel comune Alto Molisano, un viavai di mezzi di soccorso. I carabinieri oltre a prendere parte alle ricerche stanno acquisendo anche notizie utili a ricostruire i suoi ultimi spostamenti già ascoltato il personale della struttura d'accoglienza e acquisite immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, chieste informazioni anche ai cittadini. La ricerca in un primo momento si è concentrata nel centro storico e poi ha interessato l'intero paese. I carabinieri e i vigi del fuoco hanno setacciato tutto il paese casa per casa per individuare il giovane, di lui però nessuna traccia quindi le ricerche si sono spostate nelle zone periferiche. Come potete vedere ci sono alcuni militari dell'arma che stanno anche fermando delle persone per chiedere se hanno visto il ragazzo. Oltre a tutte le vie di comunicazione per lustrati dei vigili del fuoco anche i boschi che circondano il paese ma del 21enne straniero nessuna traccia. Sembrerebbe che questa non sia la prima volta che sia scappato da un centro di accoglienza per poi fare ritorno dopo qualche giorno. Per questo motivo non escluso che possa essersi allontanato volontariamente. In questo caso si ipotizza anche la possibilità che abbia chiesto un passaggio o abbia utilizzato un mezzo pubblico anche perché Chiauci è un comune isolato e non è facile raggiungere a piedi i centri più grandi.